esprimono il momento evolutivo perché la struttura matematica della realtà è perfetta commento perché ogni azione ogni pensiero ogni sensazione ogni emozione ogni desiderio esprimono il momento evolutivo di chi li esperisce e sono il passaggio indispensabile che permette all'individuo di accedere al momento evolutivo successivo la struttura matematica della realtà è divinamente perfetta